Poo, ciao a tutti ragazzi sono Cassie e benvenuti in questo nuovo video! Allora ragazzi, come vedrete e come sicuramente avete visto dal titolo, non siamo in un solito gameplay ma bensì siamo qui in questo video per andare a recuperare file video del mio passato e mostrarveli e ridere con voi. Già. Mi è venuta in mente questa cosa mentre stavo riguardando un disco esterno che ho ritrovato qualche giorno fa nel quale avevo foto, video, file di quando eravamo bambini, di quando eravamo comunque dei piccoli, innocenti esseri umani. Non me li ricordo tutti benissimo ma alcune cose sì e quindi voglio riguardarli con voi per farmi anche due risate con voi. Che bello! Vediamo intanto la predisposizione di questo video con questa transizione molto innovativa, no? era quella della videocamera che usavano i miei al tempo, che generava delle transizioni da sola. Quindi iniziamo! Ah sì, questa è la nostra casetta. Padre è sottoposto che parla. Avevamo sì una casetta. E quindi niente, qua c'è tipo mezzo video nel quale fa vedere la nostra casetta, nei piccoli dettagli. Fermi! Ciao Eleonora! Ciao! Come va? Bene! Bene! Ed ecco a voi Eleonora! Bene! Che cos'è? Madonna! Sono inquisantissima! Guardate! Che faccia già? Guardate che bel faccino che ha questa bambina! Bellissimo! Quando arriva? Chi? Sto cazzo! Salute! Non lo mettete sul dondolo, va? Il dondolo! Oddio! No, vabbè, sto video è già imbarazzante così. Tipo, ho una voce da yeah! Ciao! Che bello il dondolo! Fai ciao! Ciao! Con la manina, ciao! Ciao! C'è una bimba che sta mangiando! C'è una bimba che sta mangiando l'uovo sodo, vero? Ciao! Ciao! Metti il piatto sotto, more! Certo che comunque il mare li vedeva anche nel momento... Cioè, ci mancava solo che i bambini se non andavano in bagno, però vabbè... Chissà che ridere poi quando vedremo questa cassetta, eh Eleonora? Esatto, esatto! Vero? Sì! Ci sa da ridere! A distanza di... E poi la facciamo vedere anche... Sì! Sì! A Milano prendiamo la cassetta del... Di Eleonora? Di Eleonora del campeggio e quello del dondo che... Esatto! E poi la fettiamo! Esatto! E poi la facciamo vedere anche al fratellino dopo, eh? Così il fratellino dice... Mamma mia, ma guarda la sorellina come mangia la pasta! E tu cosa gli fai mangiare al fratellino? La papolla! Io le poggiungiamo sempre a cancio! In fondo alla strada, destra a sinistra, che cosa c'è? Devo guardare se ci sono le macchine! E poi? Che trova la bambina! E poi... E poi... Sbattò mani! Di qua, di là, vabbè, ok! Qua c'era il bar e di qua c'era il palco giochi! Il palco giochi! Il palco giochi cosa c'è? L'altalena, 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 il ponte, lo scivolo, il panda e... Calcio gol, il pallacanestro e il cavallino e i galopi! E quello che ti piace di più qual è? Io sono un bel... Il mio soltanto! E il calcio gol? Il mio... E il mio... Ti piace giocare? Sì! Mi piace giocare tanto! Fai tanti gol nella porta? Sì! Com'è il colore della porta? Bianco! Brava! Questo è un test per verificare essere daltonica! Dillo papà! Allora dici ancora! Ciao! Questo è un momento bellissimo perché è la prima di più sa fatta a mio fratello! Ed ecco a voi signore e signori Stefano sono appena arrivati a casa come vedete il 29 maggio è nato il 25 e si sta già agitando nella sua carrozzina! Inquadriamo un attimino la faccia da ranocchietto e come notate c'è ancora i braccialetti siamo arrivati pochi minuti fa! Eccolo qui guardate! Ciao Stefano! Putato! E già piange! Ecco! Chiamala! Chiamala mamma! Putato! Ciao! Vediamo! Vediamo che cosa aspetta! Quanto sono belli i bambini! Prima che crescano! Attenzione una ripresa in costume! Wow! Ma che stavo... Ma stavo ammazzando! Mi presenti i tuoi amici? Sì! Come si chiamano? Questa qui è Nala! E questa qui è Simba! E chi sono due loncini? Sì! E poi? E questo qui è il papà che è il di lei! Ah! E poi chi è quell'altro lì piccolino? Pimpi che non c'entrava a niente! Quello lì? Rosa! Pimpi! Fammelo vedere! Che non c'entrava assolutamente niente con gli altri personaggi! Quello che ho mangiato lì papatina a Macedona! Ma è un porcellino! Sì! Fammelo vedere! Mi fa patire! Io ho fatto il porcellino! Che ridere! Fammi vedere i loncini! Uuuuuh ma che beeeel! Io fino alla seconda alimentare non so comunque fino a una certa età ho sempre detto papatine perché praticamente io l'ho sempre chiamata così e i miei genitori non volevano dirmi che si dicevano patatine e non papatine E anche la maestra d'asilo e i bambini che avevo intorno mi dicevano no si dice patatine e gli dicevano no si dice papatine Invece gli genitori avevano detto alle mie insegnanti dell'asilo di non dirmi che si chiamassero patatine perché era troppo bello sentire dire papatine Grazie papatine grazie Grazie Ma che rumore che fa Fai sentire? Ma che era un leone e il maiale? E quello è il maiale Quello è il vero maiale E' un altro maiale Ma sono tutti i maiali non sono leoni Pimpino Eh l'unico baiale non fa il vero giustamente E non è un leoncino Ciao Leonora Ciao Saluta Ciao Ciao Oh ma c'è la mamma lì con chi è? Stefano Andiamo a vedere vieni Cosa sta facendo? Oh Ma c'è il fratellino al campeggio Si Ma è la prima volta che viene vero? Adesso vediamo Aspetta Guarda Io vogliamo sempre vedere le riprese Adesso guardiamo Vediamo ancora un po' Leonora Leonora Ciao Ciao E penso che con questi primi tre spazzoni di video questo video possa finire Vi ricordo che se volete anche una serie perché questa in realtà era solo un'introduzione di quello che potrebbe essere una nuova serie Vi invito a lasciare un pollicione in su Commentare qui sotto nei commenti se vorreste una serie Penso settimanale potrebbe starci Come al solito vi ricordo che in attenzione troverete tutti i social quindi Facebook, Ask, Instagram e Kik E quindi noi ci rivediamo in un prossimo video Ciao a tutti Aspetta Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti